Buonasera, favola del giorno, la donna e la gallina, esopo. Una vedova aveva una gallina che le produceva un uovo al giorno. Le venne in mente che se le avesse dato una più consistente dosi di grano, essa avrebbe prodotto almeno due uovo al giorno. Allora così fece. La gallina tuttavia divenne tanto grassa che non poteva più nemmeno produrre un solo uovo al giorno. La favola dimostra che coloro che a causa dell'avidità desiderano avere di più si lasciano sfuggire anche le cose che possiedono. Arrivederci.